buongiorno a tutti allora inizia il tour de force del gigione con le schedine e bollettine perché venerdì ci sono cinque belle partitelle perché c'è calcio in continuazione così non soffrite per visto che poi settimana prossima ci si ferma per la nazionale ma ci saranno una miriade di partite libidi per le qualificazioni ai prossimi mondiali del quatar che per di più si giocheranno tra novembre e dicembre quindi ci sarà da ridere in ogni caso partiamo subito con la schedina perché poi mi dite che mi dilungo troppo quindi andiamo secchi con la schedina real betis levante 1x per i più coraggiosi 1 sente tiel monaco x2 per i più coraggiosi 2 parma genova 1x arminia mili felipsia 2 fulan litz partita da aiuto veramente questa è una sfidona che può uscire di tutto di tutto di più quindi direi 1 2 però pareggio quello è quello che magari uno da meno per scontato e poi fanno uno squallido zero a zero che mi girano i test infatti questa non l'ho inserita nelle bollettine ma andiamo alla schedina numero 2 real betis levante over 1 e mezzo sente tiel monaco over 1 e mezzo parma genoa a mio rischio e pericolo perché secondo me che questa è una partita da anver io dico gol perché penso che almeno uno a uno questa partita possa finire arminia mili felipsia gol anche perché l'arminia in casa ma anche in trasferta vende sempre cara la pellaccia e il suo gollettino lo riesce sempre a segnare poi magari prende 3 o 4 però il suo golletto lo segna infine fulan litz over 1 e mezzo se volete anche under 3 e mezzo potrebbe essere un'idea però io per la mia bollette schedina considererò l'over 1 e mezzo quando andrò a controllare come è andata andiamo a vedere cosa ho combinato con le bollettine o bollette che dir si voglia allora non ho inserito fulan litz perché era da mani nei capelli che non ho non che parma genoa sia molto più più semplice però ho pensato il parma è all'ultima spiaggia proprio sta votando disperatamente per arrivarci il genoa tra virgolette abbastanza tra virgolette per il momento è discretamente tranquillo quindi per le motivazioni eccetera vale comunque bando alle ciance real betis levante 1 sentite monaco 2 parma genoa 1 arminia mili fellipsia 2 con 5 euro se ne vin con 50 virgola 63 un consiglio dove potete o volete metteteci una doppia partita da doppia parma genoa poi scegliete voi quella che vi fa più libidine se mettere l'uno in se mettere l'uno 2 se mettere l'x2 quella è a vostra discrezione ho messo l'uno fisso proprio per una questione di motivazioni il parma questa è una partita che deve tassativamente vincere quindi proseguiamo con la bollettina numero 2 real betis levante multigol casa 1 3 sentite monaco multigol ospite 1 3 parma genoa multigol casa 1 3 arminia mili fellipsia multigol ospite 2 4 con 5 euro se ne vincono 16 e 60 tre volte la posta non mi sembra che faccia schifo tre volte abbondanti tra l'altro bollettina numero 3 che a me piace molto real betis levante 1 x piove sentite monaco is 2 piove parma genoa 1 x piove arminia mili fellipsia is 2 piove con 5 euro ne vengono fuori 26 virgola 11 5 volte la posta come spesso molti mi dicono gigi una bolletta da 5 volte la posta eccola qua se la volete fare da 6 volte opzione numero 2 ne ho fatta una sola perché le partite sono toste real betis levante 1 x piove sentite monaco is 2 piove parma genoa 1 x piove arminia bilifel lipsia 2 piove in questo caso con 5 euro se ne vincono 30 virgola 91 quindi 6 volte la posta quarta bollettina che mi fa libidine real betis levante gol ospite sentite monaco gol casa parma genoa gol ospite arminia mili fellipsia gol casa con 5 euro se ne vincono 24 virgola 33 siamo a quasi cinque volte la posta direi che non è male bollettina numero 5 purtroppo per una partita non vi posso fare le imitazioni real betis levante gol piove sentite monaco gol piove parma genoa gol piove arminia mili fellipsia gol piove con 5 euro se ne vincono 134 virgola 09 e la partita in cui il gol piove non è favorito e c'è una differenza anche abbastanza importante di 0,65 a favore del no gol più under e parma genoa non che le altre il gol piove sia chiaramente favorito è favorito ma siamo lì siamo abbastanza vicini però era favorito quindi la cifra è libidine l'unico consiglio che vi posso dare non giocate le tutte quattro ecco per intenderci scegliete ne una o due le mettete nella vostra bolletta insieme alle altre due partite magari quotate un po meno più scontate e poi vedete voi concludiamo con la schedina folle real betis levante uno più gol sentite monaco due più gol parma genova uno più gol arminia mili fellipsia due più gol con due euro se ne vincono 394 virgola 93 con 5 euro 987 virgola 987 virgola 32 però siccome tutti i gol non sono favoriti bollettina alternativa real betis levante uno più lo gol sentite monaco due più no gol parma genova uno più lo gol arminia mili fellipsia due più no gol con due euro se ne vincono 141 virgola 12 con 5 euro 352 virgola 80 sinceramente è difficile che sia un ipotesi che l'altra escano quindi anche qui sceglietevi magari una partita che secondo voi ha più probabilità che esca o l'uno più gol o l'uno più gol e la estrapolate ve la mettete nella vostra bolletta insieme magari ad altre partite con altri pronostici e vi create la bolletta su misura come vi dico sempre queste mie scelte di fare la bollettina da quattro partite eccetera eccetera è soltanto il mio consiglio sulle partite che si giocano o gli anticipi o le partite stesse del campionato io scelgo le quattro che secondo me sono più papabili per portare a casa dei bei soldini senza avendo delle buone possibilità di vittoria per intenderci poi dopo ognuno può o copiarmi o estrapolare partita per partita scegliendo magari dalle quattro prime bollette che ho fatto ne sceglie una da uno una dalla una con la fissa una con la multigol una con la doppia chance una con il gol casa gol ospite si fa la sua bolletta e stop poi dopo è logico io quando faccio i conteggi mi vengo a dire ho preso questa bollettina da quattro questa bollettina da quattro questa bollettina da quattro ma me quello che interessa è darvi solo delle dritte sulle partite più libidinose poi ognuno fa come vuole detto questo visto che sono stato rapido solo otto minuti e dieci secondi vi saluto vi ringrazio ci vediamo alla prossima ciao ciao